Sono stati molti anche quest'anno i lodigiani che si sono dati appuntamento in piazza ospitale per partecipare all'edizione 2014 della Marcia della Pace. Organizzata da Lodi Solidale e dalle associazioni di volontariato attive in città e provincia, la manifestazione ha visto la presenza di una decina di municipalità del territorio assieme a sindacati e movimenti di vario genere. Quest'anno la Marcia della Pace ha coinvolto anche le città di Crema e Circondario e quella di Paullo. Punto comune d'arrivo è il piazzale del Castello di Pandino, sede dell'amministrazione pubblica locale. L'iniziativa prelude alla Marcia della Pace Perugia-Assisi in calendario domenica 19 ottobre che quest'anno ricorda il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Il comune di Lodi vi ha aderito predisponendo un viaggio in Pullman per quanti intendano partecipare.